presentato a maggio a canne nell'ambito della rassegna parallela della canzone del realisateur questo piccolo film in stock motion è stato uno dei più chiacchierati e applauditi dell'intero cartellone festivaliero e meritatamente perché questo la mia vita da zucchina è un film che ha avuto una gestazione lunga e complessa e merita di essere apprezzato e visto in tutto il mondo partendo da uno spunto cupo e dolente il film ci immerge in questa dimensione infantile popolata da bambini con enormi occhi espressivi e dettagli visivi che ci aiutano a dare a ciascun personaggio caratteristiche specifiche e riconoscibili lo sviluppo narrativo è semplice e lineare davvero a misura di bambino il film ha diversi momenti di grande divertimento e poesia possiamo dire di essere di fronte a uno dei prodotti di animazione più originali di questo 2016 che ci sono Grazie a tutti